Terrore ieri pomeriggio durante la festa di Sant'Antonio in uno dei salotti del centro via Altinate all'angolo con via Zabarella. Un uomo di 32 anni tunisino con precedenti per spaccio di droga ha ricevuto tre coltellate una a una gamba una alla testa e pare una terza a una mano mentre era seduto all'interno del bar centrale. È stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova in prognosi riservata. A colpirlo un altro nordafricano allontanatosi dal posto insieme a un complice. Secondo i primi accertamenti della polizia il motivo dell'agguato potrebbe essere causato da un regolamento di conti per motivi di denaro.